Salve amici del Centrometro Italiano, anticiclone e rinforzo con clima mite sull'Italia. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per domenica 23 febbraio. Al mattino nuvolosità medio-alta in transito al centro-nord ma senza fenomeni, ampie schierite invece sulle regioni meridionali. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque, con l'alternanza tra sole e nubi su gran parte della penisola. In serata e nottata nuvolosità in aumento sulla Liguria con deboli piogge, tempo asciutto altrove ma con molte nubi in transito. Per quello che riguarda invece le temperature, sia le minime che le massime, tenderanno a subire un leggero rialzo. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.